In occasione della giornata mondiale dell'acqua le statistiche dell'Istat sono impietose nella distribuzione in Italia ne viene dispersa quasi la metà. Lo spreco di acqua è quantificabile in 157 litri al giorno per abitante e il volume disperso nel 2020 avrebbe soddisfatto le esigenze idriche di oltre 43 milioni di persone per un anno intero. Il volume delle perdite idriche totali nella fase di distribuzione dell'acqua, calcolato come differenza tra i volumi messi in rete e i volumi erogati è pari a 3,4 miliardi di metri cubi.